Il cacciao mercato della Lazio è ancora molto fermo, ma c'è una novità dell'ultimo giorno, secondo me abbastanza importante, che vi voglio dire in questo video. Infatti Bonazzoli, che ormai possiamo individuare come obiettivo primario della Lazio, avrebbe aperto e sarebbe interessato a finire la Lazio. Sappiamo che Bonazzoli alla Salernitana è chiuso e che al momento ha altre due squadre pronte a prenderlo, fra cui la Cremonese. Ma il giocatore, saputo l'interesse della Lazio, avrebbe chiesto alla Salernitana di lasciarla andare alla Lazio. E quindi questa è un'apertura importante, perché finora Bonazzoli era rimasto molto in silenzio, era un po' visto che carte gli forniva il destino per poi scegliere. Ecco, il giocatore ha scelto e vorrebbe andare alla Lazio. Quindi operazione fatta, conclusa? No, manco per niente, perché ovviamente c'è di mezzo la Salernitana. La Salernitana è disposta a cedere il giocatore, visto che dopo un'ottima stagione lo scorso anno, dove ha segnato e fatto bene e giocato tanto, quest'anno Bonazzoli per vari motivi non sta giocando, sta giocando pochissimo. E quindi Salernitana sarebbe aperta alla cessione del giocatore, anche in prestito, ma ovviamente vuole qualcosa in cambio, non te lo dà gratis. A meno che la Salernitana non sia costretta perché il giocatore finisce fuori rosa o comunque dovesse arrivare un altro attaccante. Ma per cedere il giocatore la Salernitana vuole qualcosa in cambio. Se stai ancora guardando il video vuol dire che ti interessa. E allora perché non ti iscrivi al canale? È assolutamente gratuito e ogni giorno caricherò due nuovi video sulla Lazio. Uno alle 12, uno alle 14. E quindi per non perdere questi video, visto che ti piacciono, perché non ti iscrivi? Clicca il bottone iscriviti e la campanella in modo tale che YouTube ti invierà una notifica ogni volta che caricherò un nuovo video. Grazie. La Cremonese avrebbe messo soldi sul piatto per prendere il giocatore, mentre la Lazio al momento è ferma. La Lazio ha contattato la Salernitana provando uno scambio Fares-Bonazzoli. Perché ha proposto Fares? Perché la Salernitana a inizio gennaio si era mossa e ha chiesto informazioni sul giocatore. La Lazio immediatamente ha aperto alla cessione di Fares e ha proposto uno scambio alla pari. Fares-Bonazzoli. Anche uno scambio di prestiti. Ovvero Fares alla Salernitana per sei mesi, Bonazzoli alla Lazio per sei mesi e poi a giugno ne riparliamo. Problema che la Salernitana ha detto no grazie, lo scambio alla pari non ci siamo. Fares ci interessa ma non fino a questo punto e quindi la trattativa non è mai decollata. Però nel frattempo Sarri ha detto che gradirebbe Bonazzoli perché l'ha ribadito anche ieri in conferenza stampa. Numericamente la Lazio là è limitata, là abbiamo pochissime nozioni e giocando sempre i stessi alla fine c'è il pericolo che qualcun altro si faccia male e che rendimento cara. Per cui Bonazzoli sarebbe una soluzione gradita. Bonazzoli che è cosciente che verrebbe a Roma a fare la riserva ma si giocherebbe le sue chance. Ovviamente con Ciro Mobile fuori giocherebbe lui al posto di Felipe Anderson o comunque si alternerebbe e comunque Roma sarebbe una piazza più importante rispetto a Salerno e quindi Bonazzoli spinge. Però la Lazio deve trovare una soluzione. Adesso si parla di una possibile cessione di escalante. In Spagna ovviamente quelli potrebbero essere i soldi che sbloccano la posizione e consiglierebbero alla Lazio di andare a prendere Bonazzoli. Al momento però bisogna essere onesti e dire che al 24 gennaio l'operazione Bonazzoli è ancora ferma per colpa della Lazio perché la Salernitana avrebbe aperto ma la Lazio deve mettere il cash, deve trovare una soluzione per pagare la Salernitana a Bonazzoli e poter permettersi lo stipendio di Bonazzoli considerando l'indice di liquidità. Ovviamente la soluzione ideale sarebbe la cessione di Fares. Fares che insomma non ha ancora ricevuto un'offerta, Fares che insomma sembrava seguito da tante squadre e poi stringi stringi non c'è nessuno dietro all'ex giocatore della SPAL e quindi la Lazio rischia di ritrovarsi a fine calcio mercato governale con Fares in rosa inutilizzato e senza il vice mobile che tanto chiedeva Maurizio Sarri. Speriamo un'accelerata perché ripeto oggi il 24 gennaio non mancano tantissimi giorni alla chiusura del mercato e quindi la Lazio si deve dare una mossa perché ripeto c'è una grande chance perché ovviamente con quello che sta succedendo alla Juventus eccetera la Lazio ha una grande chance di finire in Champions ma bisogna dare una mano al destino bisogna aiutare la sorte con un paio di innesti. Io dico un paio ma veramente anche solo uno importante sarebbe utile e al momento però non stiamo andando avanti. E attenzione perché il mio pericolo più grosso qual è? Quello che si ripeta quello che è successo nelle ultime sessioni di calcio mercato invernale ovvero che nell'ultimo giorno di calcio mercato invernale la Lazio va a prendere un giovane Cabral qualsiasi che non c'entra niente con Sarri che Sarri non ha mai visto che viene a Roma si fa sei mesi così da turista senza giocare senza essere utile alla squadra e io cito Giovanni Cabral perché è stato l'ultimo ma se andiamo indietro negli anni ogni anno è sempre la stessa cosa. Ultimo giorno di mercato Tare alla disperata prende il primo che capita e il risultato è pessimo e quindi a questo punto ecco io vorrei evitare di fare le stesse cose del passato di fare i stessi errori del passato. Bonazzoli è un giocatore che Sarri vuole, la sala d'interno è aperta al prestito e quindi Tare proviamo a chiudere questa volta un'operazione intelligente anziché andare all'ultimo giorno la disperata. Sarebbe importante perché mai come quest'anno la Lazio ha una grande chance di poter finire veramente fra le prime quattro in campionato.